Curiosità sul Brasile Il Brasile è il maggior produttore di caffè al mondo. L'industria del caffè è stata storicamente un pilastro dell'economia brasiliana e il paese è noto per la qualità del suo caffè. Molte persone in Brasile credono fermamente nell'uso di amuleti e oggetti di buona fortuna. Uno dei più comuni è il pede coelo, zampa di coniglio, che viene portato in tasca o appeso in casa per attirare la fortuna. Il Brasile è il quinto paese più grande del mondo per superficie e il sesto per popolazione. Si estende su oltre metà del territorio sudamericano.